Benvenuti a una nuova puntata di G-C in Italia. Oggi parleremo delle bici più vincenti nel ciclismo femminile. Non c'è niente di meglio in questo momento della stagione di fare un po' di calcoli matematici e noi le abbiamo fatti di nuovo con l'algoritmo segretissimo. Trop secret, proprio trop, trop secret. Però mettiamo una cosa in chiaro, perché nel video che è uscito del ciclismo maschile World Tour, delle bici più vincenti. Qualcuno non ha ben capito di cosa si parlava. Parliamo di bici che hanno vinto di più, non le bici di miglior qualità. Le due cose possono combaciare, ma anche no. Non è detto che la bici che ha vinto di più, perché magari sponsorizza squadre che hanno vinto di più, sia anche la migliore in assoluto. Questo non possiamo dirlo noi. Abbiamo soltanto riportato le bici più vincenti. Dati oggettivi. E rifaremo la stessa cosa nella puntata di oggi con le donne. Partiamo quindi con la bicicletta che chiude la nostra classifica, la Trek Speed Concept, con 44 punti. La Trek Speed Concept è una bici da cronometro che nel 2019 ha fatto grandi cose. Avevo dei risultati, almeno. Ha fatto il debutto, il nuovo modello, e ha vinto ad esempio la cronometro squadra post-Norvargada West Sweden. Specialized Benj, 70 punti. Questa bicicletta è in uso dal team Bowels. Ha vinto quattro tappe quest'anno, compresa la classifica finale al Tour Bowels femminile e una tappa all'Ovaner G-Tour. All'ottavo posto, un'altra new entry, la Canon Ultimate CF SLX. Il modello Ultimate prende il posto dell'iRoad nello stesso posto nella classifica quest'anno, rispetto all'anno passato. La bici con la quale la polacca Kasia Niewa-Doma ha vinto l'Anstel God Race davanti alla cannibale Annemig van Leuten. Settimo posto per la Factor One con 102 punti. Un'altra new entry. Un'altra new entry è la bici con la quale ha corso la Valkenburg Park Hotel, squadra olandese. Hanno vinto otto corse World Tour quest'anno, tra cui tutte le tappe e la classifica finale al Tour of Chongmin Island. E la rivelazione di questa squadra è stata Lorena Vibes, che ha ottenuto grandissimi risultati nell'arco di tutta la stagione. Trek e Monda, 151 punti! Al sesto posto non i venti perché è il telaio nuovo del 2019, ma in realtà il modello Monda c'è da parecchi anni. È la bici utilizzata dal team Trek femminile. Squadra che comprende le nostre azzurre Letizia Paternoster e Elisa Longoborghini. Proprio Longoborghini ha vinto la classifica finale all'Emacumenturo, oltre a tre trappe. Mentre la Lizzy Degnan, ex campionessa del mondo su strada, ha vinto la classifica generale del Tour of Britain. Quinto posto per la Orbea Orca Aero con 162 punti. Ha guadagnato quattro posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. L'Orbea che è la bici della VNT Rotor che quest'anno ha conquistato la Challenge Madrid con Lisa Brennauer. Ha conquistato anche le vittorie la Genvevegem e la Dried Axe Brugge de Pan con Christenville che ha tagliato il treguardo a braccia alzati in entrambe le occasioni. Al quarto posto la Stork Airfast con 173 punti. Ok, l'Orbea ha interrotto il dominio delle new entry in questa classifica per un attimo, ma al quarto posto troviamo un'altra new entry, la Stork Airfast utilizzata dal team Virtu Racing. Con questa bici la ex campionessa del mondo e campionessa europea Marta Bastianelli ha vinto quest'anno la Ronde Vandrente, il Giro delle Fiandre e la Verganda Vassviden. Specialized S-Works Tarmac con 192 punti, terzo posto. Questa potrebbe essere una sorpresa per alcuni, però in realtà quest'anno il team Bowels Dolmas non è mai stato così dominante come la passata stagione, quindi vediamo scendere di una posizione questa bicicletta. La Tarmac ha vinto 7 corse World Tour, nel nostro algoritmo diciamo, tra cui il GP Plue, l'Image and Tour of California e due tappe alla Flash Vallon. Secondo posto per la Scott Foil RC con 250 punti. Sorpresa, la bicicla l'anno scorso ha fatto sfracelli, non è più in testa la nostra classifica. Però questa è la bici con la quale Annemiek van Vloyten ha vinto quest'anno il campionato del mondo, facendo un'impresa incredibile, 100 km da sola, vabbè. Inoltre ha vinto la Liegi Boston Liegi, la Strade Bianche e il Giro di Taglia Rosa. Impressionante. Una stagione impressionante da incorniciare, davvero. Primo posto per la Liv Langma con 305 punti. Sì, la bici della regina, un'altra regina del ciclismo femminile, Marianne Boss, la ex campionessa del mondo per tre volte. Quest'anno ha vinto 11 corse e possiamo dire che ha vinto veramente di tutto ad alto livello. 11 corse World Tour, tra cui è impressionato al Tour of Norway, dove ha vinto 3 delle 4 tappe in palio con anche la classifica finale. Poi ha vinto tanto anche in Italia, tra cui il Trofeo Binda e 4 tappe al Giro Rosa. Tanto per, grandissima Marianne Boss. Boss the Boss. Questa 2019 è stata una stagione davvero interessante per i costruttori di biciclette. Non c'è stato il monopolo dell'anno passato di Scott e Specialized. È entrato anche Liv direttamente al primo posto. Quindi per il 2020 si prospetta una stagione ancora più interessante, soprattutto per questi tre grandi costruttori. Chissà se nel 2020 cambieranno ancora le gerarchie. Questa è una classifica basata solo sulle gare World Tour. Ovviamente parliamo delle bici più vincenti, non delle migliori bici. Facciamo un'altra puntualizzazione. E altra cosa che va detta, lo sappiamo anche noi, la differenza la fa sempre l'atleta. Quindi il merito va dato sempre all'atleta, non alla bici. Questo era un dato oggettivo. Un dato curioso dovevamo far vedere le bici che hanno vinto di più. Poi non è che le bici vincono da solo, lo sappiamo anche noi. Sappiamo anche noi ragazzi. Ma lo sappiamo che non vanno da solo. Magari. Se la puntata vi è piaciuta mettete like, lo so, lo dico io. Esatto, bravissimo. Qui potete vedere un altro video, qui dare un occhio allo Shopping Online. Se l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao.